Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In Fipile in direzione Firenze, due chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 13 tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Per i lavori notturni in A11, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, lunedì notte, in orario 22.06, sarà chiuso lo svincolo di Prato Est, in uscita provenendo da Pisa. Sarà anche chiuso lo svincolo esterno di entrata per chi proviene da Pistoia. In alternativa, si consiglia di percorrere lo svincolo esterno di entrata con provenienza a Prato. Si informa che lunedì 18 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del settore auto-ferro-tranvieri. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!